Agrigento Expo 2018 torna al Palacongressi la grande fiera campionaria di Sicilia che ospiterà le aziende leader nei settori dell'artigianato, della gastronomia, della moda e molto altro. L'appuntamento assolutamente gratuito al pubblico parte mercoledì 24 aprile alle ore 17 e sino alle 22 e proseguirà nei giorni successivi sino a martedì 1 maggio. Oltre agli stand espositivi e ai padiglioni fissi la fiera si arricchirà di numerose attività collaterali. Questo perché offrire una semplice esposizione di prodotti mi sembrava troppo banale, troppo scontata, si possono trovare un po' dovunque. Quindi abbiamo associato una serie di iniziative abbastanza impegnative che sono alcune culturali, altre didattiche, quindi anche culturali, alcune di diletto. In programma il Dogfest giorno 29, la mostra dei rettili ed animali esotici ed ancora il mercatino del vinile, la rassegna Canora, Musifest e gli incontri con gli autori.